Due i colpi sparati, uno quello che ha raggiunto la vittima all'altezza del cuore, un terzo colpo sarebbe rimasto inesploso, da accertare la provenienza della pistola, un'arma comunque molto vecchia, così come da accertare se la stessa abbia sparato in qualche altra occasione. E' questo l'identikit del revolver trovato sulla scena dell'omicidio del favarese 73 n. Baldassare Contrino, avvenuto ieri in contrada a Caltafaraci tra favare e Agrigento, ricostruito questa mattina in conferenza stampa al comando provinciale dell'arma Carabinieri. Il presunto responsabile dell'assassinio, che ha confessato dopo un interrogatorio durato tre ore, è il 79 n. anche egli favarese Vincenzo Galiano, per il quale si sono aperte le porte del carcere. L'accusa è quella di porto abusivo di arma da fuoco e omicidio aggravato. Serrata l'attività dei Carabinieri, che ieri è iniziata intorno alle ore 9 del mattino, in seguito alla segnalazione al 112 del rinvenimento di un cadavere. Si tratta del corpo senza vita di Baldassare Contrino, ritrovato riverso sul sedile del suo trattore in via Felice da Sambuca, dietro la campagna del Collegio di Maria, che da qualche tempo viene adibito a centro per ospitare gli immigrati. Sul posto è intervenuta anche la scientifica. I Carabinieri hanno trovato per terra il revolver, un bossolo e varie macchie di sangue. Sul mezzo, invece, è stata rinvenuta e sequestrata un'accetta sporca di sangue, probabilmente utilizzata dalla vittima per aggredire Galiano. Tra i due favoresi sarebbero nati nel tempo dei dissapori. Contrino si sarebbe scagliato contro Galiano e questi avrebbe sparato. Da chiarire esattamente il movente del tragico evento di contrata a Caltafaraci. Fin da subito si era parlato di questioni legate a motivi territoriali, ma stamattina i Carabinieri hanno affermato come questa circostanza non sia ancora certa e che diverse ipotesi sono al vaglio. Ad entrare in azione sono stati i militari del nucleo operativo della Compagnia d'Agrigento e quelli della tenenza di Favara, la cui capillarità nel territorio e l'ottima conoscenza delle dinamiche della città dell'Agnello Pasquale, ne ha dato atto stamane anche il comandante provinciale Giovanni Pellegrino, sono state determinanti per la velocità di esecuzione e l'efficacia dell'operazione di identificazione del presunto omicida. Importante anche la presenza di un testimone che avrebbe assistito alla scena e che avrebbe notato una utilitaria, una Citroen di colore celeste, passare per contrada a Caltafaraci. I Carabinieri, identificata la vittima, ne hanno ricostruito il passato sentendo parenti, amici e familiari. Venuti a conoscenza dei dissidi creatisi tra Contrino, attenzionato in passato dalle forze dell'Ordine per detenzione legale di armi, e Galiano, è scattata la perquisizione in casa di quest'ultimo dove è stato trovato in presenza dei familiari e dell'avvocato. Gli sarebbe stata rinvenuta l'auto segnalata e nel bagno dell'abitazione, fanno sapere i militari dell'arma, sono stati trovati e sequestrati vestiti sporchi di sangue riconducibili al 79enne. Lo stesso è stato sottoposto anche all'esame dello Stub che verifica eventuali tracce di polvere da sparo su chi ha da poco utilizzato un'arma da fuoco. Perquisite anche le abitazioni dei figli del presunto omicida. Titolare del fascicolo d'inchiesta aperto sul caso è il sostituto procuratore Chiara Bisso, presente stamane in conferenza stampa, insieme al procuratore Luigi Patronaggio, al comandante provinciale dei Carabinieri Giovanni Pellegrino, al comandante della compagnia di Agrigento Luigi Garrì e ad altri militari, tra i quali anche quelli della tenenza di Favara con il brigadiere Francesco Scimè. Come detto, l'operazione è frutto di una capillare presenza sul territorio dei Carabinieri, con particolare riferimento in questo caso a quelli della tenenza di Via Olanda e della collaborazione tra gli organi di giustizia. Piena sinergia con la Procura della Repubblica, capillarità sul territorio e una pronta reattività di tutto il dispositivo. Questi sono stati un po' gli ingredienti di questo risultato che ha portato alla cattura in poche ore dei responsabili di questo omicidio. Si è trattata di un'attività attivata immediatamente, che si è sviluppata appunto su un territorio perfettamente conosciuto dai Carabinieri e che quindi ha portato alla risoluzione di questo caso. L'omicidio, ha evidenziato il procuratore patronaggio, è avvenuto per futili motivi e non è la prima volta che nell'agrigentino succedono eventi del genere. Un far west, usando le parole dello stesso patronaggio, che evidenzia una mentalità di certi soggetti ancora molto lontana dai principi di legalità. È una mentalità che deve essere portata a termine. Bisogna smetterla con questa mentalità. Bisogna smetterla con l'omertà, bisogna smetterla col farsi giustizia da sé, bisogna smetterla col tenere armi illegali in casa. Occorre avere fiducia nella magistratura, nell'arma dei Carabinieri, nelle forze di polizia. Ancora una volta è una lite banale, una lite che si potraeva da tempo peraltro non denunciata e anche i contesti familiari l'hanno sottaciuta questa rivalità e poi esplode drammaticamente in una mattinata, provocando una vittima e buttando sostanzialmente nella disperazione due famiglie. Tutto questo non è ammissibile, non si può più stare così, bisogna fare un cambio culturale, un cambio di mentalità. Lì tutta la società civile deve lavorare in tal senso. In questo caso, oltre alla presenza capillare sul territorio dei Carabinieri che sono attivati immediatamente, c'è stata la presenza attiva di un testimone che ha intervenuto, addirittura ha disarmato l'assassino, ha chiamato i Carabinieri e quant'altro. È un dato positivo. Occorre la collaborazione dei cittadini.